Attraverso i lavori di pubblica utilità, sostenere il reddito degli abruzzesi in difficoltà. Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente del Consiglio, presenta una proposta di legge per dare una mano ai cittadini e favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro. Cittadini che dunque diventerebbero custodi delle città, impegnati nella manutenzione e valorizzazione delle aree urbane. Abbiamo presentato un progetto di legge, aggiunge Pettinari, a mia prima firma, che rappresenta uno strumento utile con l'inserimento di chi non ha un lavoro in attività di pubblica utilità come cura del verde, attività forestale, rimboschimento, sistemazione montana, di spazi verdi, giardini pubblici. Inoltre prevede la possibilità di svolgere attività nel terzo settore rivolte a persone anziane, diversamente abili e minori. Come funziona? Molto semplice. A Regione Abruzzo intanto ho trovato delle risorse, 500 mila euro nel 2023, un milione di euro nel 2024 e poi a seguire, presenta degli avvisi rivolti ai comuni e alle province. I comuni e alle province possono presentare progetti di pubblica utilità per impiegare tanti disoccupati e la paga avviene giornalmente, quindi giornaliere. Sono progetti che possono avere una durata dai tre mesi minimo ai dieci mesi massimo, impiegare diversi disoccupati, farli lavorare e soprattutto non perdere lo stato di disoccupazione. Dati Istat alla mano, Pettinari illustra la situazione nera sul fronte dell'occupazione con un aumento di 14 mila unità senza lavoro nel secondo trimestre 2022. Abbiamo in Abruzzo un tasso di occupazione al 58% a fronte del 60,5% dato nazionale e abbiamo una disoccupazione all'11,3% a fronte della media nazionale all'8,3%. Una situazione insostenibile, per questo Pettinari invita la Regione Abruzzo a intervenire con misure e risorse. La Regione Abruzzo demanda tutto al centro per l'impiego, poi sarà il centro per l'impiego sotto la direzione di Regione Abruzzo e presenterà gli avvisi rivolti ai comuni e gestirà tutta la pratica e l'istruttoria. La Regione Abruzzo deve fare un piccolo sforzo, perché un milione di euro l'anno per la Regione Abruzzo è come per noi cacciare 10 euro l'anno.